Questo video riguarda i migliori tre letti pieghevoli. Il vincitore della qualità è il Lenart Letto Pieghevole. Il letto da parete a scomparsa Bad Concept sarà il vostro miglior partner per guadagnare spazio. Ideale anche per un sonno quotidiano di qualità e per l'uso puntuale offrendo un sonno confortevole ai vostri ospiti. Vincitore della medaglia d'oro al Salotto Internazionale del Mobile 2019, questo letto soddisferà tutte le vostre esigenze di comfort, ergonomia ed estetica. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Yudan sedia pieghevole. Resistente e durevole il telaio carrellato metallo portatile è fatto di metallo solido, ha un aspetto ecologico, può essere utilizzato per un lungo tempo, ed è in acciaio. Le ruote sono di alta qualità, resistente e flessibile. Sei letti regolabili per soddisfare le vostre esigenze, per quanto possibile. Grazie al suo design regolabile, è in grado di eseguire una varietà di funzioni. Materassi premium e confortevoli, materassi spessi morbidi, sono un altro punto culminante di questo letto pieghevole. Pieghevole e portatile Questo letto pieghevole è portatile e consente di risparmiare spazio. Inoltre, abbiamo preparato un sacchetto di polvere per l'archiviazione letto. Questo letto pieghevole, in combinazione con il suo design leggero, è facile da trasportare e ideale per il campeggio. Il vincitore del premio è il Beautissu pieghevole. Il letto Venetia con materasso incluso è richiudibile in modalità salvaspazio, dotato di doghe in legno e di una solida struttura in acciaio. Agili ruote per spostare la branda ovunque. Misure complete della branda 90X200CM Portata circa 100-110KG Comodissimo il materasso in gomma piuma di 10,5 cm distanza dal pavimento Circa 40 cm Peso Circa 25 kg Perfetto per gli ospiti e come lettino di emergenza assicura una posizione comoda e confortevole durante il sonno come un vero e proprio letto. Il letto Venetia include una protezione antipolvere, un fodero protettivo antipolvere e antiumidità da applicare alla struttura una volta richiusa in modalità salvaspazio. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.